Cambiano gli interpreti ma questa rezza ha dimostrato come quello di anno scorso di avere tanta attenzione soprattutto nella fase difensiva e poi abbiamo visto anche buone cose soprattutto lì davanti nel primo tempo. Cambiano gli interpreti ma la filosofia e l'allenatore è sempre lo stesso. Sicuramente in pochissimi giorni siamo riusciti a dare un'identità ma soprattutto una cultura del sacrificio, della benegazione. Per alcuni tratti seppur una squadra nettamente più giovane di quella dell'anno scorso sembravano gli stessi interpreti, non lottano contro una squadra cattiva, contro una buona squadra perché noi si è giocato contro una squadra ben messa in campo che giocava un buon calcio, che ha fatto benissimo contro chiunque ha giocato, che era molto più avanti di noi. Noi stamattina ci siamo allenati, abbiamo fatto quattro ore di pullman e siamo venuti a giocare. Niente, è la cosa che mi fa star bene, anche l'attenzione sui piazzati sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Abbiamo fatto gran gol su uno schema e li abbiamo presi altre volte. Abbiamo sofferto soltanto nella fase finale del primo tempo dove eravamo scoppiati con l'intera catena di destra, però poi anche il secondo tempo con tutti i 96 la squadra ha tenuto bene il campo. Sono molto contento soprattutto per l'ignoranza illimitata che ho dato a questa squadra in così poco tempo. Lì davanti sembra esserci anche forse un po' più di qualità rispetto all'anno scorso, magari piuttosto che un attaccante si muoveva per vie orizzontali, abbiamo visto Sascha Cori muoversi soprattutto per le vie verticali, andare incontro a Corcia su quei 30 metri. Cori è un giocatore sprecato per questa categoria. Io ho lavorato per la proprietà, per il presidente Ferretti, ma ho lavorato per il popolo aretino, per quella gente che mi ama, anche se magari a qualcuno darà fastidio che io dico queste cose, senza fare un giorno di vacanza né io né la mia famiglia per prendere questi giocatori. La cosa che in questo momento più mi inorgoglisce è che in giro si dice che abbiamo speso 2 milioni, 3 milioni d'euro. Noi abbiamo speso gli stessi soldi dell'anno scorso, facendo con grande oculatezza il mercato, con grande dignità, con grande moralità, con grande onestà e con grande idee. Senta, è arrivato Tremolada per il centrocampo, un acquisto di qualità. Cosa ci dobbiamo aspettare soprattutto per la difesa? Ma voi sapete come lavoro io, quindi io non prendo tanto per prendere, non vado all'esse lunga, mi manca, il giocatore lo vado a prendere oppure mi faccio prendere da crisi d'ansia. Io Tremolada l'ho inseguito, mi serviva una mezzala di sinistra, uno che calciasse benissimo i piazzati, perché è lì che noi costruiamo gran parte dei nostri successi e l'ho preso. Adesso penso che stanotte chiuderò uno dei centrali più forti in assoluto della categoria e probabilmente domani lo ufficializzeremo anche.